Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova video recensione, sfoglieremo assieme un nuovo volume di Harry Potter e questa volta si tratta di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, illustrato da Jim Kay. Questi libri illustrati li avevo un po' messi da parte, li ho sempre acquistati, però mi sono fermato alla camera dei segreti. Quindi finalmente colgo l'occasione per recuperare questi volumi e ragazzi come saprete è già uscito anche il calice di fuoco che sarà il prossimo video presente sul canale, lo sfoglieremo anche quello assieme, lo commenteremo assieme e naturalmente vi ricordo che questi volumi sono editi da Zalani Editore, trovate il link sotto in info box qualora fossero ancora disponibili per acquistarli su Amazon e ragazzi naturalmente vi ricordo che usciranno tutti e sette libri della saga illustrati da Jim Kay e in teoria il prossimo anno, nel 2021, dovrebbe arrivare Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Quindi piano piano ci stiamo avvicinando alla conclusione. Vi segnalo anche che presto, se non sbaglio quest'estate, ma non ho esattamente la data a mente, o quest'estate o subito dopo l'estate, uscirà Harry Potter e la Pietra Filosofale illustrato da Mina Lima. Quindi sta per cominciare un'altra serie di libri di Harry Potter illustrati, però questa volta da Mina Lima e sono davvero bellissimi. Se avete visto i miei video avrete presenti i volumi di Mina Lima, quelli dedicati a Alice e il Paese delle Meraviglie o il Libro della Giungla o Peter Pan, tutte queste storie classiche che loro, queste fiabbe classiche che hanno illustrato ultimamente, sono dei libri interattivi, con degli oggetti che possono essere tolti dalle pagine o comunque che si muovono, piccoli indovinelli, cose molto molto carine. E anche i libri di Harry Potter saranno interattivi. Quindi anche Harry Potter e le Pietra Filosofale avrà degli allegati all'interno e sarà come quei libri in copertina rigida, con quelle illustrazioni molto colorate. Quindi naturalmente io lo prenderò subito e temo però che costeranno un po' di più rispetto a questi. Saranno anche quelli molto probabilmente editi da Salani, perché i diritti di Harry Potter in Italia sono di Salani e quindi ragazzi non ci resta che aspettare. Chi volesse già preordinarli in lingua inglese può farlo sul sito di MinaLima e arriveranno autografati. Quindi i preordini arriveranno tutti autografati sia da Mina che da Lima. È una cosa molto interessante, qualora foste interessati ragazzi lo trovate sul sito ufficiale di MinaLima. Bene, detto questo direi di cominciare a sfogliare questo volume. I due precedenti mi erano piaciuti moltissimo, fermo restando che a me ancora non piace la traduzione nuova, però questi volumi riportano la traduzione nuova purtroppo. E ragazzi, adesso direi di chiudere il becco e di cominciare a sfogliarlo assieme. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban illustrato da Jim Kay. Sono davvero molto molto curioso, quindi cominciamo subito a sfogliarlo. Ecco qui questa prima illustrazione, molto molto bella, anche se non saprei dirvi di cosa si tratta, magari proprio Azkaban. Magari è stata rappresentata così, ma non ne ho la certezza perché non ho letto questa versione illustrata, però direi che potrebbe esserlo tranquillamente. Ecco qui troviamo le prime pagine completamente illustrate. Si credo proprio che si tratti di Azkaban. Devo dire che è molto molto bella, molto ben illustrata. Mi piace anche l'indice. Ed ecco che cominciamo col capitolo 1, posta via Gufo. Davvero molto bello fino ad adesso. Qui abbiamo Harry che studia di nascosto dei Dazli sotto le coperte, come abbiamo visto anche all'inizio del film. Il pezzo di giornale che mostra i Weasley in viaggio in Egitto. Molto molto carino. Mi piace anche il fondo di queste pagine con questa trama così a rombi, con il boccino d'oro, le mazze da quidditch, le palle. Davvero molto molto carina. E il libro Mostro dei Mostri. Una versione un po' diversa da quella che abbiamo visto, ma mi piace. Ed ecco Zia Maggi con il suo Bulldog. Anche questo rosa che ci va a ricordare la professoressa Umbridge. E in questo caso invece pagine verde acido. Mi piace tantissimo questa cosa che troviamo pagine anche di colori diversi dal solito bianco, perché rendono tutto molto più vivace. Ecco qui ancora il cane di Zia Marge. Ed ecco proprio Zia Marge col suo dito puntato verso Harry. E qui mi sa che adesso vedremo Zia Marge gonfiarsi. Infatti eccola qui con i suoi piedoni gonfi. E qui abbiamo Zio Vernon con questa carta da parati, che secondo me è molto azzeccata per la casa dei Dazli. Ecco la Zia totalmente gonfiata, molto molto bella. Mi piace, è davvero molto illustrato, molto ricco questo volume. Qui abbiamo il biglietto del nottetempo, il gramo. Eh ragazzi, ecco qui il nottetempo. Le pagine con sfondo nero mi piacciono tantissimo. Mi hanno sempre attratto. Carattere bianco, sfondo nero risalta tantissimo. Mi piace davvero tanto tanto. Davvero molto bello. Qui abbiamo lo skyline di Londra. E poi ecco qui che abbiamo queste pagine con questo pattern verdino. Qui cambia nuovamente colore. E poi qui invece il paiolo magico con queste maioliche. Molto molto belle. Davvero bello. Sembra proprio la maiolica di una cucina, di un tavolo. Davvero molto molto bello. Mi piace davvero tanto. E poi ecco qui che torna il tema delle maioliche. Ed ecco qui che abbiamo Henry assieme a Ron e Hermione in questo negozio di diagonale. In Grattastinchi. E qui si passa proprio sull'arancione. Va a ricordare il pelo di Grattastinchi. Mi piace molto questa cosa di colorare le pagine. Anche il fondo delle pagine. L'ho detto più volte ma davvero molto molto bello. Il dissennatore con la tavoletta di cioccolata. E poi qui invece abbiamo come sfondo questi piattini, questi cerchi. Non saprei proprio come spiegarli. Sembrano dei dischi con dei lupi vannari più o meno. Ed ecco che qui abbiamo Crosta e Grattastinchi. E poi lo stesso pattern. E qui invece ecco che passiamo al dissennatore che si introduce all'interno del vagone di Henry. Il pezzo di cioccolato. E i cancelli di Hogwarts. Artigli e foglie di tè. Qui abbiamo uno dei quadri della scalinata di Hogwarts. Belle queste pagine con questa sorta di macchia di caffè. Qui abbiamo l'interpretazione di Jim Kaye della professoressa Koeman. Che devo dire non mi piace tantissimo. Sembra un po' Moira Orfei però va bene. E poi andiamo ancora avanti. Ecco qui le creature fantastiche. Abbiamo gli ipogrifi con fiero becco e ipogrifi di altri colori. Mi piace anche molto questa interpretazione. Che possano esserci ipogrifi di colori differenti. Quindi molto molto bella questa idea di Jim Kaye. E poi passiamo al molliccio nell'armadio. Ecco il professor Piton. Che è abbastanza inquietante. Qui adesso troviamo delle pagine di colore giallo. Con Hermione. Credo sia lei ma non ne ho la certezza. Che va a combattere contro un molliccio. Che dovrebbe essere una mummia. A questo punto non sono proprio sicuro che sia Hermione. Quindi fatemi sapere sotto voi nei commenti. La fuga della signora grassa. Ricordate quando Silus Black si introduce all'interno del dormitorio di Grifondor. La signora grassa viene squarciata. Ecco qui abbiamo gli avvincini. Molto molto bella questa illustrazione dell'avvincino. Con la didascalia, la descrizione, questa interpretazione di Jim Kaye. Mi piace davvero tantissimo. Qui abbiamo i gufi. Devo dire che questo volume è davvero molto molto ricco di illustrazioni. E sono davvero molto molto soddisfatto. Ecco qui che invece andiamo a riprendere la mappa del malandrino, credo. E mi piace davvero tantissimo questa dissezione di Hogwarts. Tutta a strati delle varie torri. Davvero molto molto bella. Non l'avevo ancora vista. E mi piace davvero tantissimo. Qui ecco che abbiamo invece un paesaggio innevato. Davvero molto molto carino. E poi passiamo a questo capitolo che è invece dedicato al Patronus. Qui abbiamo ancora una volta un dissennatore. Qui abbiamo una cioccorana con la figurina. Molto carina questa interpretazione della cioccorana. E poi ancora dissennatori come se non ci fosse un domani. E poi ancora il Quidditch. Molto presente in questo volume. Qui lo abbiamo addirittura il campo di Quidditch come sfondo di questa pagina. Mi piace davvero tantissimo. Più vado avanti nello sfogliare questo volume. E più mi viene voglia di rileggere l'intera saga di Harry Potter. Sono davvero molto molto belli. Ecco qui la stamberga strillante. Che non avevamo ancora visto. E devo dire che rende molto molto bene l'idea. Qui ecco che fa la sua apparizione su due intere pagine. Il gramo. E mi piace molto questo effetto del cambiare pagina. E dello spostarci sul corpo del gramo. E qui abbiamo la coda. Davvero molto molto bello. Rende l'idea di quanto fosse grande questo gramo. Visto che servono ben tre pagine per poterlo ospitare. Poi ragazzi qui abbiamo degli alberi. Qui abbiamo la serra. Io devo dire che trovo questo volume davvero molto molto bello. E trovo un Ginkai davvero al massimo del suo potenziale. Davvero molto molto bello. Molto bravo. Qui abbiamo Sirius Black. Ogni pagina ha qualcosa di molto bello. Qualcosa da mostrarci. Qui abbiamo il platano picchiatore. Ancora una volta Crosta. E poi il servo di Voldemort. Che sappiamo essere Peter Minus. Molto bello questo incantesimo lanciato da Piton. Credo che questo sia il professor Piton. E vediamo. Ancora andiamo avanti. Ecco qui Crosta è maciato con i suoi tratti un po' da topo. E si passa adesso ai colori un po' più violaci. Siamo alla fine del volume. Il bacio dei dissennatori. Qui si passa addirittura ai toni del nero. E ragazzi guardate quanto è bella questa illustrazione del dissennatore. Che tenta di baciare Harry e Sirius qui accanto. Poi il segreto di Hermione. Quindi qui naturalmente si scopre della giratempo. E ragazzi adesso vediamo ancora se c'è qualche ultima illustrazione delle pagine finali. Qui devo dire che sia un po' risparmiato. E poi ecco che abbiamo il Patrons di Harry. Abbiamo il Cervo che qui va in soccorso proprio di Harry e Sirius. Abbiamo il nostro Ippogrifo che viene salvato da Hermione e Ron. E poi ecco ancora posta via Gufo. No, viene salvato l'Ippogrifo da Harry e da Hermione, non da Ron. Scusate, ho sbagliato. E poi ecco qui che abbiamo i nostri tre protagonisti sulle mura di Hogwarts. Che finalmente si rilassano dopo la loro ultima avventura. Bene, rieccoci qui ragazzi con il nostro bel volume tra le mani. Io anche questa volta non posso che consigliarvi l'acquisto di questa serie di libri illustrati da Jim Kay. Perché secondo me sono davvero molto molto belli. Le illustrazioni mi piacciono un sacco, l'ho detto diverse volte. Mi piace anche che non si sia scostato troppo da quello che noi abbiamo visto nei film. Quindi molte cose sono reinterpretate. Ma si vede che comunque la base di alcuni personaggi, di alcuni luoghi, di alcune ambientazioni e oggetti sono ripresi da quelli che abbiamo visto nel film. Quindi non sono stati totalmente stravolti. E questa cosa devo dire che mi piace. Mi piace parecchio. Questo libro lo trovo abbastanza ricco di contenuti, abbastanza ricco di illustrazioni. E adesso ci toccherà guardare anche quello del calice di fuoco. Io l'ho sfogliato velocemente. A prima vista mi sembra meno ricco rispetto a questi qui precedenti. Ho letto anche su internet delle recensioni dove alcuni appunto si lamentavano di questa cosa. Ma lo andremo a valutare noi insieme nel prossimo video e vedremo se realmente Jim Kay ha avuto un calo di qualità in quel nuovo volume. Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale che non foste ancora iscritti, campanella, commenti e tutte le solite cose. Così che a breve potremmo andare a sfogliare assieme anche quel volume lì. Ragazzi che dire. Io a questo punto vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia. Vi ricordo che trovate in info box tutti i link utili. E vi ricordo anche che su Pampling per tutto il mese di marzo non sarà ancora valido il codice sconto 7Potter. Ma è ancora attiva la promozione delle maglie a 10€. Acquistando un minimo di 3 maglie su Pampling, qualsiasi e se siano, le pagherete tutte 10€ al pezzo. E anche tutte quelle successive. È davvero una gran bella promozione e poi io vi chiedo di acquistare su Pampling, qualora voleste, anche per sostenere questa azienda che come tantissime altre si trova in difficoltà perché ha dovuto chiudere tutti i suoi negozi fisici e quindi stanno lavorando solamente con le vendite online. Quindi in questi anni Pampling ci ha fatto divertire, ha sfornato tantissime magliette nerd e quindi direi che si meritano un po' del nostro supporto. Ragazzi detto questo noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità e non mi resta che salutarvi. Ciao!